Nelle scuole di Comiso la ripresa delle lezioni porterà un problema in più. La distribuzione dei pasti della mensa scolastica dovrà fare i conti con qualche difficoltà. Il Comune non ha i soldi per il servizio di scodellamento, cioè per la distribuzione dei pasti ai bambini. Un servizio che negli anni passati veniva svolto dai volontari cui veniva dato un rimborso simbolico. Ma ora i soldi mancano e anche questo servizio è a rischio. Il Comune lancia un appello, chi può dare una mano lo faccia gratuitamente. L'appello è rivolto a mamme e pensionati e tra i volontari in uno o due giorni della settimana ci sarà anche l'assessore Schembari. Nei giorni in cui il mio impegno scolastico, visto che continuo a fare l'insegnante, me lo permetterà, andrò anch'io a dare manforte. Nel frattempo alcuni altri volontari, giovani donne in pensione che vogliono ancora rendersi utile per la comunità. Schembari però va oltre. Crede che il problema debba essere risolto alla radice. Occorre che mutino le disposizioni del personale ATA, cioè gli ex bidelli che in passato svolgevano tale ruolo. Ma oggi il loro contratto non lo prevede più. È mio desiderio che lo Stato riveda quello che è il contratto collettivo nazionale di lavoro, dei collaboratori ATA, delle scuole in cui si opera il servizio di irrefezione e reintroduca esattamente come quando queste persone erano dipendenti comunali, tra le mansioni in orario di servizio anche la mansione dello scodellamento. Perché è giusto anche secondo il legislatore che siano gli stessi bidelli, quelli con i quali i bambini hanno un rapporto di maggiore confidenza, che conoscono tutto il giorno, ad occuparsi anche poi di scodellare nei piattini di questi bambini il cibo che arriva appunto cotto direttamente dai centri cottura. Grazie a tutti.